Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti a questo appuntamento molto importante per il futuro di Bologna e del nostro Paese. Oggi vi illustreremo un accordo molto importante che abbiamo sottoscritto come Comune di Bologna insieme a Ferrovia dello Stato alla presenza di alcuni ospiti molto importanti che hanno contribuito a questo appuntamento. Con noi infatti sono collegati il Ministro Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Movida. Buongiorno Sindaco. Benvenuto Ministro. Tra poco si collegherà con noi anche Luigi Ferraris che è amministratore delegato di Ferrovia dello Stato e interverranno successivamente anche due assessori della nostra giunta. A Raffaele Aldoni che è assessore all'urbanistica, che ci innosi a fare. Benvenuto Raffaele. Il contenuto del progetto che oggi vi presentiamo è Annalisa Boni, assessora all'Europa, alle relazioni internazionali che sta seguendo per noi proprio la cabina di regia sugli investimenti europei. Buongiorno Ministro. Noi abbiamo iniziato a lavorare nei primi mesi del mandato, subito dopo le elezioni, su un progetto per noi chiave per la città che abbiamo chiamato la Via della Conoscenza. Questo progetto è uno dei due progetti bandiera della nostra visione di città. Accanto al progetto Via della Conoscenza abbiamo un'altra importante iniziativa, l'impronta verde, di cui non parleremo oggi ma in parte ne troverete tracce in diversi spunti che toccheremo. In quel caso parliamo della realizzazione di sei nuovi parchi urbani che attraversano i quartieri e congiungono il capoluogo con l'area metropolitana. Via della Conoscenza invece è un progetto che per noi è fondamentale. Tra poco verrà inaugurato a Bologna un super computer, il computer Leonardo nel cuore del tecnopolo, realizzato grazie al coinvolgimento di tanti soggetti, in particolare cito la regione Emilia Romagna, il Cineca e ovviamente il governo. Questo tecnopolo grazie ai super computer che saranno all'interno racchiuderà circa il 90% della capacità di calcolo del nostro paese e il 20% della capacità di calcolo europea in collaborazione con altre città come Barcellona, come Helsinki, città e università. Noi vogliamo cogliere questa grande sfida, quella dei dati e della tecnologia e dell'attrattività che questo nuovo quartiere produrrà per Bologna. Il tecnopolo è a pochi minuti, a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, dalla stazione alta velocità di Bologna. La stazione alta velocità di Bologna è da sempre un nodo fondamentale per il paese e per il corridoio europeo, è un'icona storica molto importante, l'abbiamo insieme a Ferrovie dedicata al 2 agosto, la strage del 2 agosto, è un luogo, è anche un luogo, una centralità urbana fondamentale, è nel cuore della città. Grazie all'alta velocità devo dire Bologna ha cambiato la sua posizione geografica. Noi grazie all'alta velocità siamo a un'ora da Milano, a mezz'ora da Firenze, un'ora e mezza collegati con Venezia, due ore con Milano. In questi anni grazie all'alta velocità ha aumentato il turismo, è cambiato il modo di lavorare e di vivere a Bologna in relazione ad altre città, penso a Milano e Firenze ad esempio. A pochi minuti dalla stazione alta velocità abbiamo il tecnopolo, la fiera di Bologna e anche molte aree di smesse ferroviarie che da tempo aspettano una rigenerazione. Circa 500 ettari, questa è la dimensione del distretto di cui stiamo parlando, che noi vogliamo dedicare ad attrarre talenti, ricercatori, start up innovative e edilizia sociale innovativa. Vogliamo rigenerare queste aree urbane dismesse ricollegandole anche con il trasporto pubblico, la pedonalità e le biciclette e per questo abbiamo deciso di candidarci ad uno dei bandi del PNRR che il governo ha messo in campo, in particolare questa ultima chiamata che è dedicata alla rigenerazione urbana che ci chiedeva di costruire un piano integrato. Ecco perché insieme ad alcuni comuni dell'area metropolitana abbiamo costruito un progetto che abbiamo chiamato la rete della conoscenza e al centro di questa rete vi è questo distretto via della conoscenza che d'ora in poi racconterà l'immagine, l'identità, il progetto futuro di Bologna, di dove la vogliamo portare. Per noi rigenerare queste aree lo vedrete è molto importante perché erano aree ferme ormai da oltre 15 anni e con il sindaco Cufferati si era sottoscritto un accordo con Ferrovie per riqualificare grazie alla valorizzazione di queste aree la stazione alta velocità con il progetto Isozaki frutto di un concorso internazionale, noi rinunciamo a quell'ipotesi di lavoro e la ribaltiamo totalmente per puntare al nuovo, a quello che secondo noi è oggi importante, per valorizzare quelle che sono le vocazioni della città. A questo progetto che abbiamo già presentato al governo e che oggi è al centro di questo protocollo sottoscritto con Ferrovie, abbiamo presentato per primo il ministro Giovannini che oggi è qui con noi, al quale passo volentieri la parola per un intervento iniziale. Grazie sindaco, buongiorno ancora a tutte e a tutti, è veramente un piacere sapere che una serie di idee che a un certo punto erano state considerate un po' come visionari, esagerate e così via possono diventare realtà. Questa idea di una integrazione tra conoscenza, tecnologia, mobilità, rigenerazione urbana è esattamente quello di cui abbiamo bisogno come paese, come città, come Italia perché ci sono tantissime aree che potrebbero diventare un luogo di rigenerazione. Con il PNRR abbiamo voluto aggiungere 2,8 miliardi al piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare che la ministra De Micheli aveva iniziato durante il suo mandato e proprio il 31 pubblicheremo un rapporto in cui tutti questi progetti verranno mostrati e verranno mostrati anche quelli di Bologna naturalmente, ma quello di cui parliamo oggi va ben oltre, la riorganizzazione, la rigenerazione di un particolare angolo di città. È una visione integrata, come ricordava il sindaco, che non può essere realizzata senza la collaborazione di diversi soggetti. Ed è proprio questo il senso di questa operazione che va, come dicevo, anche al di là della questione logistica, della questione urbanistica, perché diventa un pollo di attrazione di idee, di persone nella logica della sostenibilità, della transizione ecologica, della transizione digitale, che sono proprio le idee centrali del PNRR, ma più in generale dell'idea che come ministero stiamo anche perseguendo su dieci anni per trasformare l'Italia, perché i fondi del PNRR non esauriscono tutta questa spinta. La collaborazione con Ferrovie dello Stato è veramente paradigmatica, perché come il sindaco ha ricordato ci sono tante aree dismesse che possono essere ripensate, riutilizzate e proprio nei giorni scorsi ho visto sulla stampa dei dati su quante aree dismesse sono diventate piste ciclabili, anche grazie agli investimenti del Ministero. Ma come dicevo, e qui concludo, questo progetto ha una scala e un'ambizione veramente notevole. Ci sono dunque dei buoni casi, anche in Italia, da cui sono sicuro il sindaco, la giunta, hanno tratto ispirazione, ma questa esperienza può diventare fonte di ispirazione per molte altre città, per molti altri luoghi. Bisogna essere ambiziosi, sì, bisogna essere visionari, sì, bisogna essere capaci di stabilire collaborazioni, sì, bisogna coinvolgere i territori e da questo punto di vista l'Emilia, Romagna, la città di Bologna hanno un track record, come si dice, veramente notevole perché la partecipazione delle comunità è un tratto distintivo della cultura di questo luogo così straordinario del nostro Paese. Io mi fermo qui, Sindaco, e quindi sono anch'io curioso di vedere i dettagli di quella idea di cui parlammo tempo fa, che oggi si realizza. Grazie Ministro. Ora entriamo nel merito della proposta che abbiamo sottoscritto nel protocollo con Ferrovie e per illustrarla passo la parola ora all'assessore Raffaele Laudani. Sì, grazie Sindaco, buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno Ministro, è davvero un piacere per me illustrare alcune delle peculiarità dei progetti che sono oggetto dell'accordo che stiamo sottoscrivendo con Ferrovie dello Stato. Come diceva giustamente il Sindaco, si tratta di interventi decisivi che faranno da Volano, da Innesco, al più ampio e complessivo progetto di città attorno alla conoscenza che è stato richiamato prima dal Sindaco. Io metterei il fuoco su tre azioni in particolare che sono un po' paradigmatiche di quello che faremo insieme in questi anni attraverso anche le risorse dei piani urbani integrati e più in generale del PNRR. Il primo focus che vorrei illustrare ha a che fare con la rigenerazione dell'ex scalo ferroviario del Ravona con un intervento attraverso le risorse del PNRR consistente di quasi 60 milioni di euro che prevede la realizzazione di un distretto dell'innovazione sociale e della collaborazione mediante l'acquisto di aree ferroviarie dismesse di una porzione importante dell'ex scalo ferroviario del Ravona, il recupero degli edifici esistenti per metterli a disposizione di nuovi usi, la trasformazione ecosostenibile di aree pavimentate per metterle a disposizione per nuovi spazi pubblici verdi e attrezzati, ma anche la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Tanari e via del Chiù che sarà molto importante anche nel rapporto con la nuova linea tramviaria che realizzeremo e di percorsi ciclopedonali connessi al Bosco dei Prati di Caprara. Per darvi un'idea dei numeri parliamo di 14 ettare di nuove aree pubbliche all'interno delle quali sono previsti 21 mila metri quadri di edifici esistenti recuperati per usi culturali, sociali, innovativi che produrranno risparmio di energia anno pari a circa 215 tonnellate equivalenti di petrolio e all'interno di questo distretto vi saranno anche circa 9 mila metri quadri di nuovi edifici abitativi all'insegna dell'abitare collaborativo e innovativo attraverso co-housing, residenze cooperativa proprietà indivisa, residenze temporanee, guest house. Le due cifre che in qualche modo caratterizzeranno questo nuovo quartiere sono per noi la collaborazione, collaborazione intesa sia dal punto di vista dei modelli abitativi, dei modelli economici, di gestione, di condivisione di spazi, servizi e funzioni e la sostenibilità, sostenibilità ambientale, climatica ma anche economica e sociale. La parte rimanente dell'ex scalo ferroviario di Ravone abbiamo deciso insieme a Ferrovie di candidarla a un importante concorso internazionale chiamato Reinventing Cities, promosso da C40, un consorzio di città promosso dalla fondazione Bloomberg che nelle edizioni precedenti ha avuto grandi successo in altre città come Milano, Madrid, giusto per fare alcuni esempi, perché consente di costruire dei team di finanziatori, sviluppatori, architetti che hanno come obiettivo quello di regenerare delle aree di smesse con obiettivi principali, quello della transizione ecologica e innovativa. Quindi nel complesso tutta l'area dell'ex scalo ferroviario di Ravone sarà appunto un nuovo quartiere che per noi diventerà una sorta di modello per la rigenerazione futura. Poiché questo processo è stato innescato attraverso la scelta di portare degli usi temporanei nell'ex scalo ferroviario di Ravone, nell'accordo è prevista anche la possibilità, quando la fase di caratterizzazione sarà ultimata, di estendere gli usi temporanei anche alle officine grandi riparazioni che è un'altra grande area limitrofa all'ex scalo ferroviario di Ravone. Il secondo focus che propongo di descrivere brevemente ha a che fare proprio con la stazione 2 agosto che richiamava prima il sindaco. Qui l'accordo prevede la possibilità di ristrutturare, rigenerare una parte degli edifici della stazione per portare lì la sede principale di quello che stiamo chiamando polo della memoria democratica, che sarà un nuovo grande polmone culturale del paese, che avrà come obiettivo quello di realizzare quello che probabilmente diventerà il più grande archivio nazionale sulla storia contemporanea di Bologna e del paese, un auditorium, spazi espositivi temporanei e permanenti, laboratori per attività educative, quindi un grande polo culturale che però collocato all'interno della stazione 2 agosto sarà anche un modo per proiettare la città nel futuro, la città del futuro ancorata da alcuni principi e valori che sono quelli che caratterizzano questa città e questo territorio. Per dare anche qui un'idea dei numeri si parla di un altro investimento consistente di oltre 21 milioni di Euro per intervenire su circa 8 mila metri quadri di edifici con un risparmio energetico anno di circa 53 tonnellate equivalenti di petrolio e circa 2 mila metri quadri di aria esterna e recuperata ad uso pubblico. Il terzo progetto che brevemente vorrei richiamare apparentemente è di scala minore, ma per chi conosce questa città invece sa quanto è importante, ha che fare con il recupero e la rigenerazione del dopolavoro ferroviario, del parco del dopolavoro ferroviario che con un investimento di oltre 11 milioni di Euro che prevede il restauro degli edifici di interesse culturale esistente, la ristrutturazione degli altri edifici, il recupero degli impianti sportivi esistenti e il recupero dell'allestimento del verde e degli spazi aperti proprio perché il progetto è strettamente connesso anche all'altro progetto bandiera dell'impronta verde. Anche qui per darvi dei numeri stiamo parlando di 6.600 metri quadri di edifici esistenti recuperati con un risparmio energetico anno di 15 tonnellate equivalenti di petrolio e 15.000 metri quadri di campi sportivi recuperati. Per noi il dopolavoro ferroviario diventerà pienamente un nuovo spazio per l'attività sportiva, l'attività ricreativa e culturale, un pezzo significativo di città della notte che noi consideriamo essere uno degli elementi qualificanti per proiettare Bologna nel futuro e ovviamente lo faremo anche in questo caso come nostra tradizione con le realtà che sono già presenti e che già operano negli spazi del dopolavoro ferroviario e con la città tutta. Io, Sindaco, mi fermerei qui e ti torno la parola. Grazie Raffaele. Noi chiaramente abbiamo questa intesa con Ferrovie, oggi parliamo di questo, il progetto Via della Conoscenza è molto più ampio e diciamo che questo accordo ci permette di fare da volano ad un progetto che poi andrà a occuparsi di tutta l'area verso il Tecnopolo. Per chi non conosce Bologna, tra quest'area che abbiamo visto, il Tecnopolo, stiamo parlando di una distanza di un quarto d'ora a piedi o in bicicletta, quindi veramente le distanze sono vicine e tra gli investimenti del piano integrato che abbiamo proposto ci sono poi anche i collegamenti per arrivare al Tecnopolo, ma di questo parleremo in un'altra conferenza stampa. Prima di passare ai nuovi ospiti vorrei chiedere un commento veloce al Ministro per poi salutarlo perché immagino avrà altri impegni. Grazie. Le immagini, credo per chi conosce un attimo Bologna, mostrano il ruolo di questo intervento e la connessione con il resto della città. Vedete, gli esercizi di rigenerazione si stanno moltiplicando, come dicevo, ed è importante riconoscerli, ma riconoscere che questi interventi devono seguire una visione di città, una visione che sempre più spesso segue l'ottica della sostenibilità, ma non solo ambientale, sociale e economica, come è stato ricordato in precedenza. Come sapete il nostro Ministero ha cambiato nome, non più infrastrutture trasporti, ma infrastrutture e mobilità sostenibili, ma soprattutto abbiamo cambiato il nome del Dipartimento Opere Pubbliche in opere pubbliche, politiche, urbane e abitative e poi c'è anche la parte idrica e così via. Con questo cambio di nome ci siamo candidati a diventare un po' il punto di riferimento per i sindaci per le politiche urbane, che naturalmente a livello di Ministeri sono diffuse in termini di competenze in diversi Ministeri. Io ho spinto per la ricostituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane, che è stato ricostituito e che si riunirà a breve, come luogo di coordinamento delle politiche nazionali dei vari Ministeri proprio sul tema delle città. Ma come Ministero noi ci siamo impegnati proprio a coordinare anche le nostre politiche interne, tra quelle di rigenerazione urbana, a quelle dell'edilizia popolare, ai progetti innovativi come il PINQA, a quelle di mobilità. Io sto incontrando, anzi ho incontrato tutti i sindaci delle città metropolitane, anche naturalmente il sindaco l'Ecole, per capire come coordinare meglio le nostre stesse iniziative. Stiamo per varare un osservatorio proprio sulle politiche abitative, tema ancora molto complesso nel nostro Paese, come sappiamo. Tutto questo per dire che il nostro impegno in questo progetto non è episodico, non è così casuale e noi vogliamo supportare Bologna e tutte le altre città che vorranno andare in questa direzione al meglio. Con le nostre capacità abbiamo costituito anche un gruppo di esperti che ci aiuti in tutto questo e abbiamo dunque, teniamo particolarmente a questo evento di oggi perché è l'inizio di un percorso di rigenerazione non solo fisica ma anche sociale, culturale che vogliamo vedere in tantissime città. Quindi complimenti al sindaco Lepore, complimenti a Bologna e a presto rivederci con altri esempi di questo tipo. Grazie Ministro, buon lavoro. Grazie, a presto. Allora, salutando il Ministro Giovannini, ora si dovrebbe essere collegato con noi l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris che è stato fondamentale per la sottoscrizione di questo accordo. Eccolo, lo vediamo, è molto benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Intanto nel dare la parola a lei voglio ringraziarla e ringraziare il gruppo di Ferrovie dello Stato perché abbiamo lavorato intensamente per diversi mesi, tantissime persone impegnate, quindi le voglio ringraziare una per una perché è stata credo una collaborazione molto importante e segno anche di un paese che sta affrontando questo PNR con grande spinta e voglia di raggiungere i risultati. Ci aggiungo che per Bologna è un accordo storico che anni andavamo lo sblocco in un'area e ormai siamo arrivati ad un punto in cui possiamo portare a casa insieme un ventino. A lei la parola. Grazie, di nuovo buongiorno, grazie a chi ci sta seguendo. Ho intravisto il ministro Enrico Giovannini che mi avete avuto l'occasione di salutare successivamente e ovviamente grazie a lei sindaco e alle altre autorità presenti. Direi che in parte la gestione della firma del protocollo d'intesa che presentiamo oggi con il comune di Monia credo che sia un passaggio molto importante di un percorso che il gruppo delle ferrovie, il nostro gruppo, ha già iniziato a compiere ma che troverà pieno a compimento quando presenteremo il nostro piano industriale e poi successivamente lo andremo a implementare e realizzare. Il piano riserverà un'attenzione particolare anche al tema della rigenerazione delle città in chiave sostenibile. Il gruppo intende dare un significativo contributo a una sfida che coinvolge cittadini, amministrazioni pubbliche e operatori economici, ossia quella di migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Per raggiungere questo obiettivo, che alle volte viene delegato a uno sguardo e basta, è fondamentale riuscire a cooperare con la stakeholders e agire tutti insieme, così come questo accordo può testimoniare. Palestina quindi richiede evidentemente una interlocuzione e collaborazione a tutti i livelli, tra tutti gli stakeholders. E devo dire che, come diceva lei prima, tra Bologna e il gruppo delle ferrovie è partito un meccanismo che mi fa dire si può fare, si può fare e si può estendere anche in altre realtà. In poche settimane abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro congiunto, sono stati aperti nei tavoli, ci si è confrontati con trasparenza, con spirito costruttivo, lavorando proposte e strategie per centrare alcuni obiettivi condivisi e con le opportunità che ci vengono offerte evidentemente dal PNR. Tra queste ricordo la possibilità di utilizzare fondi destinati a migliorare il benessere dei cittadini e a rendere le nostre città sempre più sostenibili. Quindi non sfugge a nessuno e ovviamente neanche a noi che ne abbiamo fatto uno dei capisali del nostro piano industriale che i nodi urbani avranno un ruolo chiave nello sviluppo della sostenibilità. Già oggi le grandi città sono responsabili del 40% dell'utilizzo, del 40% dell'energia prodotta e per il 70% delle emissioni di gas a tetoservo. Quindi è chiaro che metà dei problemi legati agli cambiamenti climatici, legati a un sviluppo sostenibile, sono dei grandi centri e su questo ci dobbiamo tutti collettivamente concentrare. Quindi a Bologna, come in altre aree, gli obiettivi principali della nostra strategia sono da un lato realizzare le condizioni e le infrastrutture capaci di abitare a una mobilità cittadina, sempre più ecosostenibile e dall'altro recuperare e rigenerare alle urbane e strutture edilizie di nostra proprietà, ma non più strumentali alle attività ferroviarie. Il gruppo possiede infatti un esteso patrimonio immobiliare parzialmente non utilizzato, costituito anche da stazioni, caselli e sedini ferroviari, oltre a officine non più operative, a scari merci e ad aree riutilizzate. Ad oggi, giusto per fare un esempio, ci sono 418 stazioni che intesa come enti locali, associazionismo, hanno spazi concessi in comodato d'uso e dedicati ad attività che prevedono la valorizzazione del territorio o servizi a favore dei cittadini nel suo complesso. Si tratta quindi di una visione strategica che riguarda il gruppo, il gruppo nel suo complesso, in tutte le sue varie articolazioni. Quindi in questo protocollo che stiamo firmando e abbiamo firmato, compaiono varie società del nostro gruppo, un'altra in Italia, con lo spazio relativo alle officine di riparazione e manutenzione a motori, a rete ferroviarie italiane, sui edifici di stazione, i sistemi urbani, con gli asset ubicati in una posizione strategica tra l'albero di Bologna centrale e centro della città. Vorrei anche cogliere questa occasione per menzionare altre iniziative che il gruppo sta portando avanti per contribuire alla transizione energetica del nostro paese e per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Abbiamo censito a livello nazionale 30 milioni di metri quadrati di suolo in aree di mitrofe a strade ferrovie che potrebbero essere utilizzate in monti da dentro. Per produrre ad esempio energie pulite, ma non solo. Abbiamo aree nel centro di città, a ridosso di stazioni dove saranno possibili piantumazioni, corridori verdi, piste ciclabili che partono dalle stazioni, tetti green degli edifici ad esse connessi, utili a catturare il CO2, ridurre la temperatura e quindi collettivamente migliorare la qualità di vita di tutti noi. Su questo siamo evidentemente molto impegnati, molto obiettivizzati per la realizzazione di queste azioni, di queste strategie. Quindi il nostro obiettivo è quello di mettere in moto in tutti i sensi energie pulite e fare in modo che queste energie pulite possano contribuire alla riconversione delle nostre città da grandi metropoli a aree più verdi, più sostenibili e più accessibili ai cittadini. Grazie davvero per il suo intervento. So che non è stato facile mettere insieme tutti i pezzi di ferrovie per raggiungere questo obiettivo. Penso che sia stato un esempio, come lei diceva, anche di come si può collaborare fra istituzioni. Vedendo la fatica che stiamo dicendo il PNRR vi voglio davvero ringraziare perché la nostra candidatura senza questo protocollo sarebbe stata molto più difficile. Invece queste risorse che noi impegneremo le impegneremo insieme su queste aree. Voglio anche evidenziare che faremo anche attrazione di investimenti perché il bando Reinventing Cities sull'area del Ravone è un bando che Ferrovia ha già anche proposto su altre città, si è detto Milano, e che attirerà sviluppatori e investitori. Quindi di fatto per noi questo progetto è davvero un volano che ci permetterà non solo di utilizzare i fondi del PNRR ma anche di attirare investimenti pubblici e privati e di proseguire rispetto alla città della conoscenza. Credo che possa essere un motivo d'orgoglio per Ferrovie e che anche sui servizi che si possono dare nella stazione questo possa essere davvero un punto molto importante perché passano di lì milioni di passeggeri e possono andare negli edifici che stanno generando e diventerà un motivo di visita quindi anche per lo sviluppo stesso della stazione. Magari le lascio la parola per l'ultimo commento e un saluto e poi passiamo la parola ad Annalisa Bori. Direi che senz'altro questo protocollo, l'intesa che stiamo portando avanti, invitamente ai fondi che ci vengono messi a disposizione del PNRR, genererà un effetto moltiplicatore, un effetto come dicevo, è un volano per attirare altre iniziative e altre soluzioni. Quindi noi di questo noi siamo convinti, siamo convinti che le grandi città vogliono viste all'interno del sistema nervoso, io lo chiamo sistema nervoso, il sistema di trasporti del paese in modo sempre più iterato e debbano essere sempre più accoliti in questo senso. Quindi direi lavoriamo insieme così sicuramente avremo modo di far apprezzare ai nostri concittadini lo sviluppo di questa iniziativa. Ringrazio e ovviamente se deve andare non si preoccupi che la liberiamo. Intanto grazie per il lavoro a lei e a tutte le persone che lavorano con lei. A presto. Grazie, grazie a voi. Ora per proseguire nel nostro viaggio per l'ultimo intervento passo la parola all'assessore Annalisa Boni che ci spiegherà dal punto di vista dei fondi e del programma a cui facciamo riferimento cosa sta accadendo. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Quello che vorrei aggiungere io in quanto assessore i fondi europei e la cabina di regia PNRR e dei fondi europei in generale è che parte di questo accordo che appunto davvero storico sarà implementato grazie ai fondi del PNRR ed in particolare dell'allocazione di 157 milioni che il governo ha deciso di dare a tutte le città metropolitane per sviluppare dei piani integrati di regione urbana ed extraurbana. Quindi è un bando molto efficace perché in un certo senso non c'è competizione con le altre città perché ognuno ha la sua allocazione e permette alle città di fare degli interventi davvero su misura. Su questo bando specifico abbiamo lavorato davvero in grandissimo coordinamento con tutti i comuni dell'area metropolitana al fine di identificare quei progetti proprio che rispondessero in modo molto forte ai criteri del bando stesso e che appunto messi insieme potevano creare un'opportunità di sviluppo per la grande Bologna. Quindi l'idea è stata quella di proporre dei progetti fra cui questo che rispondessero fortemente alle prerogative del Green Deal europeo ma anche della strategia di questo governo così come menzionato dal nostro ministro Giovannini prima per fare appunto di Bologna una città verde inclusiva e con la conoscenza e la transizione digitale al centro. Ora la nostra proposta di piano integrato che copre quindi una parte di questo bellissimo accordo è stata presentata lo scorso 21 marzo e dovremmo se tutto va bene inshallah ricevere la valutazione il 6 aprile e dovremmo correre come con tutti gli altri bandi perché come sapete i progetti dovranno essere conclusi entro la fine del 2026. Quindi il PNRR e direi l'Europa quindi ci ha dato una leva in più per arrivare a questo piano, a questo accordo e accelerare questo percorso che davvero combina le nostre ambizioni in termini di transizione ecologica, digitale e sociale attorno ad un progetto di riqualificazione in questa importante parte della città. Oggi, ricorderei anche che ad oggi si parla di circa un miliardo, un po' di più, un miliardo e cento di fondi europei, PNRR ma anche fondi strutturali, fondi diretti e via dicendo che sono assegnati comunque previsti per la nostra città come grande Bologna nei prossimi anni e che combinati davvero trasformeranno, la trasformeranno tanto e quindi penso anche che, come è stato detto prima, che questo progetto sia anche molto simbolico e l'Europa guarda molto a questo in questo senso, molto simbolico anche perché si fonda su un partenariato istituzionale multilivello, proprio dal locale al regionale, nazionale, l'Europa sono tutti nel gioco, un approccio settoriale perché abbiamo mobilità, ambiente, coesione sociale e digitale che permetterà veramente una transizione sistemica della città e infine una sinergia forte fra gli stakeholders chiave della città inclusi i cittadini. Quindi aggiungerei solo queste cose e grazie. Grazie Annelisa, ricordo che il progetto che abbiamo candidato per il bando del piano integrato, oltre alle cose che avete visto oggi e che in generale sommano una proposta di 106 milioni di euro su 157, prevede anche degli interventi sul comune di Imola per il parco dell'osservanza, a Sasso Marconi per la cartiera, il distretto dell'economia circolare e per quanto riguarda il Brasimone, il centro di ricerca Enea e la stazione di San Benedetto Val di San. Vi ringrazio per averci seguito, potrete rivedere sia su Youtube che su Facebook la nostra presentazione e a presto, nelle prossime settimane, quando vi illustreremo i prossimi passi di questo importante progetto per una grande Bologna, la via della conoscenza.